Dipendenti di Alba senza stipendio. I 130 lavoratori della società partecipata dal comune di Battipaglia non hanno ancora percepito gli emolumenti del mese di luglio nonostante la presenza in cassa delle risorse necessarie. La situazione di stallo è legata alla questione relativa alla governance della società che a giorni vedrà la nomina del nuovo amministratore unico. Sulla vicenda, emblema dell'approssimazione del dilettantismo secondo la CGL, è intervenuto anche il vice sindaco Stefano Romano che ha invitato a corrispondere senza ulteriore ritardo gli emolumenti relativi al mese di luglio. Stipendi a parte c'è grande attesa anche per conoscere la data del Consiglio Comunale chiamato ad approvare i nuovi contratti di servizio che dovrebbero dare un orizzonte più definito ai lavoratori della società.